La Lega aveva annunciato che oggi alla conferenza stampa che si è tenuta nella sala Luigi Sturzo a Palazzo del Carmine sarebbero state molte le novità riguardanti Caltanissetta e l'intero territorio nisseno e così è stato a partire dalla nomina della vice capogruppo della Lega nel Consiglio Comunale nisseno di Valeria Visconti, ex pentastellata, transitata nel gruppo misto, da oggi nella Lega. La Lega riparte dal territorio, riparte dai giovani e dalle donne. Do il benvenuto ufficialmente al consigliere Valeria Visconti nel partito di Matteo Salvini e nel gruppo consigliare Lega Sicilia per Salvini Premier che qui a Palazzo del Carmine adesso sarà composto da due consiglieri, io capogruppo e Valeria il mio vice. Riparte dalle donne perché nel frattempo verrà nominata anche Valentina Spinello, consigliere di Niscemi e coordinatrice di Niscemi, responsabile provinciale degli enti locali e in settimana avremo anche una nuova struttura per quanto riguarda Lega Giovani. Così la Lega punta sempre più su giovani e sulle donne. Momento importantissimo per la città, per tutti quanti e in particolar modo io e il consigliere Aiello saremmo pronti a fare opposizione veramente serrata, forte e importante. Ringrazio la Lega per avermi accolta e la Lega è un partito in cui mi ci rivedo pienamente per cui non farò altro che lavorare con la gente. Grazie. Ulteriori novità sono state comunicate durante la conferenza stampa di oggi a cui hanno presenziato Valentina Spinello, consigliere comunale e coordinatrice della Lega Niscemi che presto sarà nominata responsabile provinciale degli enti locali. Presenti anche Matteo Franciglia, sindaco di Furci Sicolo e responsabile regionale degli enti locali e Giuseppe Miciche, coordinatore regionale della Lega Giovani in Sicilia occidentale che sabato ritornerà per ufficializzare nuovi ingressi e per nominare il nuovo coordinatore provinciale di Lega Giovani che ha sottolineato e ribadito l'attenzione alle nuove generazioni.